Via libera dell'aula della Camera di Montecitorio alla fiducia posta dal governo Berlusconi. I voti favorevoli sono stati 309, i voti contrari sono stati 250 e così all'Italia è ricevuto la prima fiducia. Incassato dunque il sì sul decreto, ora si passa alle dichiarazioni di voto e al voto sugli ordini del giorno. Gli ordini del giorno presentati sono 29, il voto finale sul provvedimento è previsto per questa sera. Domani il decreto torna in Senato e sarà all'esame delle Commissioni Industrie e Lavori Pubblici di Palazzo Madama. Il via libera definitivo sul provvedimento dovrebbe arrivare entro dopodomani. Il decreto infatti deve essere convertito in legge entro lunedì prossimo, pena la decadenza.